Fannisi, la passeggiata, una delle più belle di Fano, insieme alla sua rosa dei venti, non gode di una buonissima salute? Effettivamente dagli anni Ottanta, quando è stata realizzata la passeggiata di Sassonia, gli interventi di cura e di manutenzione non ci sono stati, non sono stati tantissimi, anzi non ci sono stati. Noi, anche attraverso una programmazione di attività, abbiamo iniziato a intervenire. La rosa dei venti purtroppo è da 30 anni che non è più in uso, devo dire che anche recentemente è stata vandalizzata perché è tutta rovinata, cercheremo di intervenire, però siamo consapevoli del fatto che per sistemare tutta Sassonia servirebbero milioni di euro. Noi passo dopo passo cerchiamo di programmare degli interventi per rendere comunque quella passeggiata importante e molto più bella rispetto all'anno prima. Quindi con una programmazione pluriannale cerchiamo di intervenire per sistemare prima i LED, poi la pista ciclabile, adesso sistemeremo i giochi, i giardini, tutto quello che c'è dietro.